Ristoranti, rivendite di auto, di materiali ferrosi, attività di riparazione dei macchinari, servizi di noleggio, persino aziende nel campo della pubblicità. Lo scorso anno la Prefettura di Lecco ha firmato 12 provvedimenti interdittivi nei confronti di altrettante imprese infiltrate dalla criminalità organizzata. Negli ultimi tre anni, complessivamente, le attività chiuse nella nostra provincia sono state 28. Lecco, si legge nel report dell'attività della Prefettura per il suo tessuto economico, è in grado di esercitare un forte richiamo per il progressivo radicamento della criminalità organizzata, che non si limita a infiltrarsi nel tessuto economico-sociale, ma rappresenta ormai un'insidia particolarmente impegnativa. Sono presenti nelle chiese diversi soggetti interessanti per affiliazione e collegamenti con importanti sodalizi del Sud Italia, in particolare con l'Andrangheta. Tra i fenomeni criminali più rilevanti, evidenziati anche dalle recenti operazioni di forze di polizia, quelli attinenti all'esercizio di attività illecite di tipo economico e finanziario, portate avanti da esponenti della criminalità organizzata che avviano sul territorio lecchese attività imprenditoriali a volte reali, a volte fittizie, potendo contare su un imponente flusso di liquidità che viene facilmente immesso nel circuito dell'economia reale. Riciclaggio, insomma. Da segnalare, infine, che lo scorso anno è stato destinato al comune di Osnago con un immobile confiscato, una villetta in via delle betulle, verrà utilizzata per scopi sociali.